Beh, mi sono trovato bene, perché comunque con qualsiasi compagno proviamo in allenamento, il mister è uno che cambia spesso anche in allenamento, ci fa giocare sempre prima con uno, poi con l'altro, quindi con tutti i compagni mi trovo bene, con Ciro mi sono trovato bene, abbiamo anche un buon rapporto. La prestazione sia mia che sua è stata secondo me ottima, nel senso che sì, ci è mancato il gol, magari ci manca il gol, però ogni partita penso che usciamo dal campo con le ossa rotte, nel senso che facciamo un grosso lavoro per la squadra e quindi bisogna continuare su questa linea, determinazione, compattezza e tanta voglia con grinta di fare risultato. L'obiettivo mio è quello di sbloccarmi, oltre che fare tanto lavoro per la squadra, perché quello secondo me è una punta, soprattutto con le mie caratteristiche, che è abituata a lottare su tutti i palloni e non lo deve mai perdere. Quindi l'obiettivo mio è sia lavorare per la squadra, sia ovviamente sbloccarmi e fare gol. Ma ovviamente abbiamo incontrato squadre blasonate, forti, però inizia un altro tipo di campionato, nel senso che incontriamo squadre però con tanta voglia di riscatto, che comunque anche Sant'Arcangelo ha preso cinque gol, quindi starà magari dietro la linea della palla, farà la sua, tra virgolette, sporca partita, nel senso che come Ravenna che è venuto qua, sarà difficile poi fargli fare gol, giocano un po' più su queste cose qua. Però adesso affrontiamo una serie di partite, forse un po' più alla nostra portata, ma sono comunque tanto difficili, perché sai, le sfide tra virgolette salvezza sono sempre partite a sé.